Assaltano un supermercato e fuggono col bottino, ma uno di loro è stato tratto in arresto grazie all'apporto fornito da un carabiniere libero dal servizio. E' accaduto l'altra sera a Rutigliano, dove i carabinieri dell'aliquotara radiomobile della compagna di Trigiano hanno arrestato un 26enne di Capurso, già noto alle forze dell'ordine, con le accuse di rapina aggravata, resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali. Dopo aver messo a segno la rapina, i due sono fuggiti a bordo di una Fiat 1, guidata da un terzo complice, procedendo verso Noi Cattaro. La condotta di guida, particolarmente spericolata dei tre, ha insospettito un carabiniere libero del servizio, che è la guida del proprio veicolo. Ha inseguito i fuggitivi, fornendo i dati identificativi del veicolo e la direzione di fuga alla centrale operativa di Trigiano. Tali indicazioni hanno permesso a una gazzella del nucleo radiomobile di intercettare i tre, i quali, avvertiti il pericolo, hanno preferito abbandonare l'auto e dileguarsi a piedi per i campi. La determinazione degli operanti ha permesso loro di raggiungere e bloccare definitivamente il 26enne, nel quale, pur di sottrarsi alla cattura, non ha esitato a colpirli con calci e pugni. Nel corso delle ispezioni eseguita sul veicolo, il risultato provento di furto, avvenuto alcuni giorni fa, ha permesso ai militari di rivenire una pistola rivelata a Sigiocattoli, un passamontagno e il tutto sottoposto a sequestro. Dopo l'arresto, il 26enne, su disposizione della Procura della Repubblica di Bari, è stato rinchiuso nel carcere del capoluogo. Sono invece in corso accertamenti, volti a risalire all'identità dei complici.